Musica Oggi a poco più di un anno dalla scomparsa di Angelo Petrulli Vogliamo omaggiare un suo ricordo Una persona che ha fatto tanto per la comunità del VCO Per le persone diversamente abili Con un carattere davvero coinvolgente e determinato Vogliamo ricordarlo attraverso la testimonianza di una persona Che ha condiviso con lui tanti anni di attività del GSH Sempione E poi proponendovi degli stralci di intervista di Angelo Presi da una puntata dell'incontro Giuseppe Bottani, abbiamo detto, ha condiviso Tanti anni di esperienza con Angelo Con il GSH Sempione Un tuo ricordo di Angelo? Io parlare di Angelo è parlare di una persona Che per tutta la sua vita si è sacrificato a favore degli altri Quanto grande sia la sua figura Penso che sia dato soltanto dalla testimonianza Che ogni giorno ci arriva da tante persone Da tante ente, da tante comunità Che l'hanno conosciuto Che hanno avuto il piacere e l'onore di conoscerlo Io posso parlare della mia testimonianza personale L'ho conosciuto circa 15 anni fa In occasione dell'organizzazione dei campionati italiani di sci Che si svolgevano all'Osentino Per quanto riguardava lo sci di Alpino E Formazza per quanto riguardava lo sci di Fondo Mi sono avvicinato a queste persone Nel modo più sbagliato possibile Cioè con un senso di compassione Me ne sono accorto col passare degli anni Che queste persone non hanno assolutamente bisogno Della nostra compassione Ma anzi, soltanto della nostra ammirazione Con Angelo ho condiviso quasi 15 anni Ci siamo combattuti tante volte Perché ci siamo scontrati Perché avevamo idee magari diverse Ma rimanere con Angelo è stato per me Un accrescimento morale indescrivibile Ho capito quella che era la sua filosofia della vita Cioè che niente è impossibile, basta volerlo Per lui non esistevano ostacoli Non esisteva niente che non si potesse fare Con lui andare in giro nelle scuole Sui campi di gara Ad incontri con altre persone Era ogni volta un arricchimento Aveva sempre una parola per tutti E sempre un incoraggiamento Aveva un carisma che ho trovato in pochissime persone I ragazzi erano coinvolti da lui In un modo incredibile Gli si affezionavano E di fatti lui li chiamava i miei ragazzi Non ha avuto figli lui ma ne ha avuti tantissimi E quindi posso veramente dire che Angelo Chi l'ha conosciuto ha conosciuto una persona veramente speciale Con Angelo diciamo che in questi 15 anni abbiamo condiviso tante cose Sui campi di gara Era una persona che dimostrava qual era il suo carattere Lui era veramente un combattente Voleva sempre vincere Lui lottava sempre per vincere Poi se non arrivava prima non gli interessava Ma lui lottava sempre E questo era quello che voleva trasmettere anche sempre a tutti i suoi ragazzi Cioè ai ragazzi diceva sempre Il risultato sì è importante Ma è più importante quando avete finito di gareggiare Di dire ho dato tutto me stesso Cioè di essere a posto con voi stessi E parlare con Angelo a volte passava quasi un sorriso Perché ci ricordiamo tutti in modo spiritoso i suoi congiuntivi Che spesso erano fonte di una risata incredibile Ma lui non gliene fregava di niente Lui andava davanti a tutti E aveva il coraggio di parlare con tutti e di tutto Quanto sia stato grande Angelo Lo vediamo anche del riconoscimento che ha ricevuto Ha ricevuto il Cavaliere della Repubblica Ha ricevuto altri premi importanti A livello europeo e a livello mondiale Angelo ha avuto una vita diciamo sfortunata E la sua sfortuna permettetemi di dire Che è stata la fortuna di tantissime altre persone Perché quando un ragazzo di 18 anni Pieno di vita e di vitalità Si vede da un giorno con l'altro Bloccato su una carrozzina Non penso che sia così tanto facile reagire Lui ha reagito, ha reagito nel modo migliore Si è giocattato nello sport E con l'andare degli anni è riuscito a coinvolgere Tantissime altre persone Pensate che quando nel 1982 Ha fondato la società Erano quattro atleti che andavano a giocare In giro per l'Italia a basket Ha fondato un'associazione che oggi conta 260 iscritti Di questi 260 abbiamo una quarantina di ragazzi Che svolgono attività agonistica Che sono attività in varie discipline Dal nuoto all'atletica Allo sci di fondo Facevano altri sport come anche tennis E curling Che poi chiaramente per motivi di costi Basta dire che per allenarsi Bisognava andare a Pinerolo Era impossibile sostenere una cosa Delle spese del genere Però in questi anni ha avuto anche Delle grandissime soddisfazioni Per chi ha visto dei suoi ragazzi crescere Ma non solo dal punto di vista sportivo Ma crescere proprio dal punto di vista di uomini Di ragazzi che hanno acquistato Una grandissima fiducia in se stessi E quindi sono riusciti ad integrarsi Ancora maggiormente in quella che era la società Io di Angelo posso soltanto dire una cosa Quello che ho detto sempre agli altri E che vorrei ricordare in un modo semplicissimo Grazie Angelo per tutto quello che ci hai dato Giuseppe Giuseppe un bilancio dell'attività del GSH Dei ragazzi dei risultati ottenuti in quest'ultimo anno Diciamo che dopo un primo momento di sbandamento I ragazzi hanno fatto ancora più gruppo E posso dire con orgoglio Che abbiamo Dico abbiamo perché io mi sento uno di loro Quindi parlo sempre come gruppo nostro Abbiamo ottenuto dei bellissimi risultati Abbiamo ottenuto nella stagione scorsa Cioè la stagione del 2017 19 titoli individuali nell'atletica leggera 4 titoli nello sci di fondo Un titolo nel nuoto E il secondo posto come società ai campionati italiani Vorrei fare però un piccolo inciso su questo Siamo arrivati secondi però tenete conto di una cosa Che noi siamo una realtà piccolissima Nel confronto di realtà come Cagliari, Milano, Bergamo, Roma, Ragusa Quindi che hanno dei bacini di utenza Che sono 50-100 volte superiori ai nostri Quindi se essere arrivati quest'anno Secondi non è certamente una sconfitta Ma diciamo una mancata vittoria I ragazzi poi abbiamo anche un'altra Grossa soddisfazione da questi nostri ragazzi Perché quest'anno due di essi Non ancora ventenni Uno di 18 e uno di 19 anni Sono stati convocati in nazionale Uno di loro due, Riccardo Bagaini Ha avuto il piacere e l'onore Di essere convocato nella nazionale maggiore A Londra ai mondiali di atletica leggera E ha conquistato nella staffetta 4% La medaglia d'argento Una settimana dopo ai mondiali giovanili Di Notville in Svizzera Ha fatto tre gare 100-200-400 E ha vinto tre medaglie Tre volte è salito sul podio Quindi per noi è un motivo d'orgoglio Oltretutto E avere un ragazzo che gareggia A questi alti livelli In più un altro ragazzo Solo da quest'autunno Nicolas Zani È stato convocato anche lui in nazionale E ha partecipato a Savona Ai campionati europei Vincendo la medaglia d'argento Quindi al di là Dei questi risultati Diciamo di punta Che per noi sono Un motivo d'orgoglio Non dimentichiamoci Di tutti gli altri risultati Che ottengono i 40 ragazzi Che fanno attività agonistica I meeting sono tanti Quindi abbiamo L'anno scorso abbiamo avuto Cinque meeting A cui abbiamo partecipato Biella, Ovada Gravellona Verbagna In più I campionati di società Che abbiamo fatto A Roma Per quello che riguarda La disabilità intellettiva relazionale E a Cagliari invece Per la disabilità fisica Quindi diciamo che C'è parecchio da fare Questo per quanto riguarda L'attività agonistica Però abbiamo anche Altri progetti Che sono Molto molto Per noi importanti Abbiamo il progetto Nelle scuole Pensate che noi visitiamo Qualcosa come 25-30 scuole Ogni stagione E in questi 15 anni Abbiamo incontrato Qualcosa come 100.000 studenti Sono numeri importanti In queste scuole Noi svolgiamo attività All'inizio Ludica Nel senso che Facciamo giocare I ragazzi In carrozzina A basket Con noi Oppure Quelli più piccoli Li facciamo fare Dei giochi Di staffetti Di divertimenti Mentre poi In un secondo Momento Che è il momento Diciamo Fondamentale Più importante Della giornata Insegniamo loro A individuare Le barriere architettoniche A superare Dei piccoli ostacoli Che possono essere Come dei gradini E li facciamo fare Praticamente a loro Cioè Un ragazzo in carrozzina E un ragazzo Che deve aiutare L'altro suo compagno A salire o scendere Da questi piccoli ostacoli Quindi Segue poi Un dibattito In cui i ragazzi Sono coinvolti A fare domande Ai nostri Ragazzi Su come hanno Diciamo Superato L'impatto Della loro disabilità Come è accaduto E quindi Motivi Diciamo Un progetto Che per noi È molto Sentito E importato È portato avanti Da tanti anni E pensiamo Di continuarlo Anche perché Dobbiamo a volte Rinunciare a determinate scuole Perché non riusciamo A soddisfare Tutte le richieste Poi abbiamo Un progetto Che riguarda Dentro Le escursioni In montagna In cui vengono organizzate Ogni anno 8-10 escursioni Sulle nostre montagne Qua intorno Sono escursioni In assoluta sicurezza Perché sono sotto Il diretto controllo Del soccorso alpino Della guardia di finanza E i percorsi Vengono studiati Prima Da delle guide specializzate È un progetto Importante Perché permette Ai ragazzi Di acquisire Una maggiore sicurezza In se stessi E non sono Camminate semplici Perché si fanno Anche camminate Di 4-5-6 ore Superando Dislivelli Da 400-600 metri Di dislivello Quindi Molto impegnative Quest'anno poi Abbiamo un progetto Nuovo Ci sono Un marito E moglie Di Carpugnino Laura Trentani E Paola Ragazzi Che Sono due Che fanno Dello sport Estremo Quest'anno Hanno fatto Si sono iscritte Italo Road In Alaska Una traversata Dei ghiacciai Della Alaska 400 miglia Che sono 650 chilometri Da percorrere a piedi Trascinandosi A mano La slitta Su cui avevano Tutti i loro bagagli E i mezzi Di sossistenza Ci hanno coinvolti Dicendo che Volevano partecipare A questo progetto E hanno portato Con loro Una bandiera Dell'Italia Con tutte le firme Anche dei nostri ragazzi E Lo scopo È di Sempre Con tutti i soldi Che poi loro Ragorgono Dei loro sponsor Di fare poi Qualcosa di umanitario Quest'anno Hanno pensato Di rivolgersi a noi E noi siamo stati Ben felici Di collaborare Con loro Quindi I progetti Non mancano Il lavoro Nemmeno Però Assolutamente Impossibile Lasciare questo sentiero Che Angelo Ci ha tracciato È un sentiero Importante Che abbiamo intenzione Con tutte le nostre forze Con tutta la nostra volontà Di portare avanti Nel tempo L'ospite che è con noi Questa sera È un ospite sicuramente A voi tutti noto Che rappresenta Il nostro territorio Un po' in tutte quelle Che sono le sue sfaccettature Ma che soprattutto Rappresenta Noi E la nostra realtà Per la voglia E la passione Del vivere Ed è Angelo Petrulli Angelo grazie di essere qui Buonasera a tutti E grazie per avermi invitato Oltretutto Per la vostra collaborazione Che siete sempre vicino Al nostro gruppo Il GSH Sempione 82 Come centro servizi Per il volontariato Lo dice proprio la parola E quindi voi Siete molto sempre Molto vicini a noi Il GSH Sempione 82 È nato così Per una parola Detta da Marco Ferrares Il nostro atleta Che giocavamo Con lui Ormai Siamo dal 1978 Che giochiamo insieme Abbiamo giocato Per molte squadre italiane E poi alla fine Giocavamo a Novara E un giorno di giugno In una partita In trasferta Dice Senti Visto che siamo in quattro Che veniamo da Domo Perché non fondiamo Una squadra nostra Io ho detto Ma te sei matto Cioè Sai Non è facile E detto è fatto Dopo due mesi È nato il GSH Sempione 82 Quando siamo nati Bisogna dire la verità Siamo nati Per divertirci noi Prima di tutto Che è una cosa fondamentale Poi abbiamo visto In molti di noi È saltata quella scintilla È vero Ci divertiamo Perché non aiutare gli altri Allora abbiamo Cominciato A A Devolvere La voce Grazie anche Ai giornali Alla televisione Che cominciano In quei tempi Di E così Ha cominciato Ad avvicinarsi Molta gente Adesso Come prima Diceva Caterina Abbiamo più di 100 iscritti Che non fanno tutti Attività agonistica Perché Non bisogna pensare GSH Sempione È un'associazione Che Per ragazzi disabili Che hanno delle difficoltà Si possono avvicinare tutti Si possono avvicinare tutti Ognuno fa quello Che si sente di fare Nel mezzo Deve cosa Uno si sente di fare L'attività agonistica Ma ci sono molti Che vengono solo Per fare attività motoria Per stare bene fisicamente Perché Facendo dell'attività sportiva Si sta bene fisicamente Certo Cioè I malanni Ci sono Non è che non ci sono Ma molto meno Se uno è statico Dentro per la casa Ecco Ecco Prova a raccontarci un po' Le attività principali Le attività principali Sono l'atletica leggera Per dire Principalmente L'atletica leggera Perché l'atletica leggera Perché coinvolge tutti Però Facciamo il nuoto Anche lì E' un altro aspetto Che anche lì Coinvolge Molti ragazzi Cosa Dove coinvolge di meno E magari Lo sci Perché è più difficoltoso E più Cosa O il tennis Nel tennis Anche lì Ci sono delle difficoltà E quindi Abbiamo meno atleti Che fanno tennis Cosa Il curling Curling L'abbiamo tenuto in piedi Fino al 2010 Dopo Il 2011 E' stato l'ultimo anno E abbiamo dovuto smettere Perché non avendo un palazzetto Nella nostra zona Andavamo a allenarci a Biella Biella Si è rotto l'impianto Non l'hanno più aggiustato Dovevamo andare a Pinerolo Cioè Impegnativo E cosa Poi Come dire Non è che coinvolgeva Molta gente E cosa E poi Noi non abbiamo Essere mai soli E quindi Ci inventiamo Tutte le attività possibili Per coinvolgere I ragazzi Infatti non c'è solo Come associazione Non fate solo L'attività sportiva Agonistica o meno Ma fate anche proprio Dei progetti Che coinvolgono La popolazione La popolazione Sì sì perché Io ho sempre amato L'integrazione Mi hanno sempre insegnato Io quando sono uscito Dalla clinica Sono uscito In testa Con delle cose Che mi hanno insegnato Che mi ha insegnato Il direttore Della clinica Perché era lì Sempre con noi E ci parlava sempre E diceva sempre Vai tu dalla gente Non la gente Che viene da te Con questo modo Riesci a coinvolgere E cerca di non isolarti E di essere sempre Allora io ho sempre pensato L'integrazione Quella La cosa più bella Che possa esistere Il GSX Sempione 82 Come ho detto prima Non è mai solo Perché abbiamo Tanta di quella Brava gente Intorno a noi Ci amano tutti Ci coinvolgono tutti Abbiamo questi progetti Della montagna Che è stato Un progetto Che ancora oggi Io lo amo Perché ha portato A dei ragazzi Della disabilità intellettiva Una sicurezza immensa E poi un risveglio Delle solo Facoltà intellettive Sue cose Molto bello anche il titolo Fuori casa Dentro l'amicizia E' stato proprio Indovinato Bisogna dire Grazie a Mauro Rossi Che mi ha proposto Ai suoi tempi Nel 2003 Questo progetto E con Giorgio Scroffernecker L'abbiamo poi Così sviluppato Ma prima di quello C'è stato A braccia aperte Braccia aperte Era stato Un altro progetto Con la guidina dal sasso Che E a me è piaciuto Tantissimo Peccato Che abbiamo dovuto Chiudere questo progetto Perché Braccia aperte Cosa voleva dire Voleva dire Andare Nelle piazze Non nelle palestre E riuscire a tirar fuori Delle persone Di casa Che non uscivano mai Per E non solo Disabile Perché Noi non abbiamo mai pensato Al disabile Abbiamo pensato All'unione Quindi Con noi C'era della gente Meno giovane C'era dei ragazzi Delle scuole elementari Delle scuole medie Delle mezze età Cioè Ornavasso Eravamo un centinaio Di persone Quando ci trovavamo Tutti i martedì A Ornavasso A Omegna Un po' meno Però Sempre quelle 30 40 persone Con magari Una decina di disabili E gli altri Erano tutti abili Questo E uno aiuta l'altro Verbania lo stesso E' stato Questo è un altro progetto Che E poi Abbiamo un altro progetto Che parleremo poi dopo Sicuramente Delle scuole Quello Quello che Amo forse di più Che bello Questo quando tu dici E' questo andare fuori Andare verso Non aspettarsi Che Allora Raccontaci un po' Come Come lo sport Rispetto proprio alla disabilità Cioè come aiuta Questo andare Andare fuori Andare verso Andare ad incontrare gli altri Magari proprio affascinandoli Per quello che è Un dono Che poi ognuno di noi ha E che attraverso lo sport Riesce ad esprimere Allora Io Voglio tornare indietro Nel tempo Del 1969 Così Dopo che mi sono fatto male E Quando ho fatto Le mie prime gare Le mie prime gare Le ho fatte Davanti a una platea Immensa Quindi Tu capisci che Sei lì in mezzo a questa folla Che continua a incitarti E cosa E di lì Ha risvegliato qualcosa dentro di me Che Mi ha dato questo input E di questo Io Ne faccio Bonuso Che lo Dedico ai miei compagni In modo che Di spronarli Che A fare Questo tipo di attività Perché poi la gente Ci ama Non è che ci Dice Oh poveretto Quello lì Ormai non esiste più Il poveretto Cioè una cosa E di lì Mi ha dato sempre Quella forza Di continuare Ma poi Una cosa importante È che lo sport fa bene Io se sono ancora Attivo Devo dire Grazie A chi mi sta vicino Naturalmente Ma soprattutto Lo sport Perché Io ancora Ho la possibilità Di muovermi Come voglio Invece Se stavo fermo Io mi vedo Quando due mesi Che sto fermo Ho le feste di Natale Cioè l'estate Quando sto fermo Comincio già a impazzire Cioè E me sento Invece Quando faccio il mio allenamento Anche solo un allenamento La settimana Già mi sento meglio E questo Che lo dedico agli altri Lo sport E proprio adesso Lo dici di benissimo Esatto Non è tanto fine a se stesso No 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 Ma è proprio l'occasione L'occasione Per stare con gli altri Per andare verso gli altri Benissimo Benissimo Hai percepito perfettamente Cos'è lo sport Cioè Soprattutto per noi Che cosa ti spinge? Allora te l'ho detto Io sono nato per me stesso Quando sono nato sportivamente Per fare per me Dopo mi sono accorto Che Fare qualcosa per gli altri È ancora più bello E lasciatemelo fare E lasciatemelo fare Perché Io Non mi sento Mi sento felice Se ho raggiunto Un risultato Di un lancio O di una corsa Ma mi sento più felice Se il mio atleta O una persona Che viene con noi Ha fatto determinati esercizi Che non sarebbe stato All'altezza Di poterlo fare Questo È il bello E nel nostro gruppo E nel nostro gruppo Come ben tu sai Ci sono ragazzi Di tutte le disabilità Non è che sono solo fisici Cosa C'è l'intellettivo Il down L'autistico Le autistici Poi È ancora più difficile Trattenerle Più che altro No Perché Però sono fantastici Perché basta poco Cioè Come trattarli Io dico che Ho due allenatori Bravissimi Io Non finisco di ringraziare I miei collaboratori Perché sono veramente bravi E che capiscono E la cosa E lo fanno Veramente col cuore E Non hanno nessuna Sì Quello che tu dici È proprio un po' Anche la dinamica Di tutte le associazioni Di volontari Di volontari Che alla fine uno Lo fa E ne ha un ritorno Per sé Cioè Il fatto di dare agli altri È poi un grandissimo Un ritorno per sé Sì Cioè Io vado a casa felice Non perché ho giunto Un risultato Di misure O di tempi Ma un risultato Di queste cose qua Un risultato Un risultato Un risultato Un risultato Un risultato Un risultato Un risultato